URNA! CABB! GABRI! GABRI! Sì! Arrivo, arrivo! Aspetta che... Devo mettere niente la forma a scaricare. Facciamo il Rea! C'è Diva? Mhm. Gli faccio conoscere una mappa. Se la conosci, ok, allora. Aspetta... Aspetta che... Non so come mettere. La switch è di lato. Quindi mi da un problema. Arrivo. Aspetta! 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 Poop It! Ah, ah! Eeeh... GABRI! Sì? Poop It! Poop It! Poop It! Poop It! Genio! Ah, il tuo amico è genito? Sì! Ciao! Ciao! Facciamo Rea? Amico! Amico! Hai usato il codice creatore di... Di Pazzoz? Oppure... O qualche YouTube che conosco tanto bene. Ehm... Ehm... Ma perché? No, è che a volte è crushable. Ah, io volevo mandare la richiesta. Vabbè, comunque mi hai fatto un po' di crea. Scusate, avevo sbagliato io. Avevo sbagliato da uscire. Volevo mettere una cosa io, scusatemi. Allora, cosa devo fare? Gabriele? Sì? Allora... Mi metti un attimo di... Ok, no... No, no, non ci bisogna che mi metti io. Amico, sono l'angelo. Io sono l'angelo di tutti gli oscurità. Mi... Mi mandi la richiesta. Ovvio. Però devi stare attento. Che rimano tutti i lupi e tutto. E anche se sono anche un angelo... Però sono... Sono buona. Buona. Hai espresso... Hai tipo... Porco! Hai espresso tre desideri, per caso? Eh... Voglio essere un porco. Vuoi essere un porco? Va bene, il tuo desiderio è stato esaurito. Seconda cosa vuoi? La seconda? Eh? La seconda cosa vuoi? Il secondo desiderio. Cosa vuoi? Vuoi avere... Uno skateboard. Ok. Esaurito il skateboard? Desiderio. L'ultimissimo. Quale vuoi? Ehm... Non avere un fratello. Ok. Esaurito. Che tuo fratello non ci sarà più. Ok. Hai seguito te desideri. Adesso vai a baciare e vai a fanculo. Pfff. Dai! Dai! Dai sto scherzando dai. Sto scherzando. Sto. 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 Vado a guisare. Sì. Voglio fare un'altra mappa di crea. Proprio crea. Sto tutto per il centro. Non funziona. Aspetta, a meno che mamma è leader gabriel. Non. Non è sbagliato. Salute. Saluto. Saluto. Un saluto da Marcello. Un saluto da Marcello. Un saluto da Amarello e porco due. No. Oppure da da VideQ che io... che lo conoscete cosa, Gabriele. oggi non lo spacca tutto occhio raga se vede in qualche da nostra abbiamo ci spacca tutto come se le ragazze mattina ma fa il messaggio detto e sei sito di sita io voglio che ho questo ballo voglio vedere voglio vedere voglio vedere voglio vedere bollo che ho luce che è rarissimo voglio vedere è messo chiamolo chiamolo tuo poterlo chiamato a poterlo voglio vedere l'unica interessa poi non è colpa bravi dei tre questo però non gli interessa se viene da me poi ma mazza mi picchia se signor mattia venga signore mattia venga ho sbagliato mira ci può manco sbagliare sta casa voglio vedere dai voglio vedere brigadi non vuole venire allora in questa mappa dobbiamo competere tutti dobbiamo essere tutti concentrati prendere le piante no no dobbiamo prendere le armi qua sono pronta a fare casino io cosa è nulla bravi ragazzi continuate mi cura mi cura mi sta scendendo ma no l'ho sbagliato ho sbagliato ragazzi ricominciare la finestra più non c'è dalla scala e ragazzi ricominciamo scusami ma che cava il tattico sto qua ragazzi morì da un attimo così ricominciamo perché c'è c'è stato un piccolo bug mag simpito lo baguetto piccolo baguettino